Domani parleremo di tante cose, ci saranno tanti interlocutori interessanti. Uno dei focus principali sarà la legge 56 2023, ovvero la cosiddetta norma che ha allentato il vincolo di esclusività, o meglio, allentato il divieto di cumulo di impieghi per i dipendenti della pubblica amministrazione. Da questo punto di vista è una norma estremamente innovativa, una norma non perfetta, ma sicuramente apre degli spaccati interessantissimi perché è un'assoluta novità nel panorama dei dipendenti pubblici che permette loro a determinate condizioni di esplorare anche il mondo extra ospedaliero attraverso la libera professione o comunque degli incarichi che possono essere fatti al di fuori delle mura ospedaliere. Una norma che sta suscitando notevole interesse. L'evento di oggi nasce pure per dare chiarezza agli operatori sanitari, agli infermieri, affinché praticamente lavorano in sicurezza ma lavorano ad affrontare meglio la problematica quella che è relativamente alla libera professione per quanto riguarda il pubblico dipendente. Noi dell'ordine, di conseguenza che rappresentiamo i 3.900 infermieri, vogliamo essere molto ma molto più presenti dal punto di vista del nostro panorama e della nostra provincia. E questa tematica sta a cuore a tantissimi colleghi ma sta a cuore un attimino alla nostra comunità perché attraverso questo strumento possiamo dare risposte concrete al nostro territorio che in determinati momenti non riescono a darsi punto perché non si riesce a dare la giusta offerta dei professionisti che possono adoperarsi nel nostro territorio. Perciò noi vogliamo essere molto ma molto presenti nel nostro panorama provinciale e il nostro motto è quello di farci sentire per farci vedere. Perché ci vediamo domani mattina appunto al Polo Universitario di Trapani e la scelta del Polo Universitario è perché vogliamo lavorare sia per i nostri colleghi ma vogliamo lavorare per il futuro, per i nuovi colleghi che arriveranno a breve come le prossime lauree che ci saranno il 26 novembre presso il Polo Universitario. Perciò lavoriamo sia per i nostri colleghi presenti in questo momento che si adoperano all'interno delle nostre aziende ma nello stesso tempo lavoriamo per il futuro per i nostri colleghi e futuri infermieri.